Casa Grande Padana ha contribuito alla realizzazione di questo importante paviglione corpore e banchi della Cina attraverso la fornitura di oltre 4200 piastrelle 60-60 con pattern frattale speciale, quindi con un pattern tridimensionale sviluppato sotto specifico disegno di un archistar Danel Ibeschi che la Casa Grande Padana ha riprodotto con questi smalti, che sono smalti particolari con un effetto metallizzato iridescente, quindi colori che cambiano intensità a seconda dell'incidenza dei raggi solari. L'ufficio engineering della Casa Grande Padana ha contribuito alla definizione del sistema di fissaggio di queste lastre, fissaggio a scandole che ricordano i dragoni cinesi, lastre dove in particolar modo è stato accurato il sistema di fissaggio mettendo in sicurezza tutte le lastre.